Eeeh, what's up? Tutti c'erano e benvenuti a giocare in questo nuovo insieme bisogno su The Wardrobe Vediamo ragazzi se riusciremo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video La volta scorsa ragazzi eravamo riusciti a vincere questo buono per ritirare un premio A quanto pare qui ragazzi, in questa zona mezza dismessa In cui ovviamente adesso andremo subitissimo Quindi andiamo a visitarla senza perdere troppo tempo Nel frattempo, nel frattempo cosa? Ok, quindi è arrivato il pacco, lo scienziato pazzo che diceva di avere una macchina del tempo In ogni caso eccoci qua ragazzi, qua c'è la vecchia conoscenza Cioè sarebbe a dire il senzatetto che avevamo fatto praticamente andare via dal veicolo In ogni caso con quante cose possiamo interagire Allora qua c'è un occhio però non mi lascia fare niente ragazzi effettivamente Fisarmonica, questi due sono personaggi che ho presenti ma non mi viene in mente chi possano essere Allora parliamo prima con il writer Una cintura gioverebbe Beh direi di sì, continuano a calargli i pantaloni Parliamo con lui Cos'è arte post-moderna? Eh c'hai ragione, non riesco davvero a farmi venire da interessanti Del tipo? Beh zio non saprei, qualcosa che trasmette emozioni forti Qualcosa d'impatto ma che sia originale una volta tanto Me son rotto, descrive guardie infami sui monumenti Capisci? Certo, certo Ah beh ricordiamoci che quindi questo qua sta cercando idee ragazzi particolari Se provassimo a dargli la lettera d'amore tipo Non saprei come usarlo Ah beh l'ho buttata lì giusto a caso Visto che ha detto che si è scocciato gli scrive guardie infami sopra i monumenti In ogni caso fisarmonica Per me sarà sempre irrimediabilmente legata all'immaginario di due cani che mangiano spaghetti e portate al chiaro di luna Sarebbe a dire lì il vagabondo ovviamente Possiamo prenderla Lasciamo perdere Ah no, ok Ormai dovresti aver capito che non ho un gran feeling con gli strumenti musicali Perfetto Dubito che sarebbe in grado di suonarmi qualcosa anche se glielo chiedessi Allora perché è qui? Perché possiamo interagirci? Vabbè in ogni caso parliamo col senza tetto anche Scusami se ti disturbo ma hai un'aria familiare Potrebbe darsi che tu mi abbia vista a qualche fiera in passato Sai un tempo ero un gamer professionista Oddio Da come te la passi adesso parrebbe che qualcosa sia andato storto Tunnel carpale Ho perso lentamente mobilità e reattività Mi ha tagliato fuori dal circuito dei pro Mi immaginavo più una freccia nel polso o qualcosa del genere Freccia nel polso? Mai giocato a Skyrim Nooo Allora hai subito la giusta punizione Grande Skinny col tuo cinismo Vabbè non ho la minima idea di chi sia ragazzi Se ve lo riconoscete ovviamente ve lo fate sapere qua nei commenti Comunque non possiamo dirgli altro Qua ci sono di nuovo ragazzi i fogli di Slenderman Possiamo parlare con questo qua? Se andrerebbe di no Possiamo parlare con lui? Oddio Ci vorrò spaccare in due Probabilmente ha fatto tutta questa strada solo per trovare un po' di pace Probabilmente sì L'ho tormentato abbastanza Ah ok Lo lascerò riposare stavolta Va bene quindi niente da fare Non possiamo parlarli Oh mio dio Mangiatoia Scatola di Ego Credo che quelli della Ego non finiranno mai di ringraziare abbastanza i fratelli Duffer Chissà tutti gli introiti generati grazie a Stranger Things Ah sono sì quelle cose che mangia unici Fossi in te lascerai perdere La ragazzina diventa un tipetto parecchio pericoloso quando si incavola Ok quindi glielo lasceremo qui Ti concedo l'alibi della malnutrizione e della pelata Ma non sono io quello con poteri paranormali e una strana ossessione per i waffle I waffle sì Mi preferiresti con sopra un po' di sangue invece dello sciroppo d'acero Vero Demogorgone? Sì certo vabbè non possiamo fare altro Possiamo interagire anche con la mangiatoia Non so immaginare cosa ci sia dentro quel pastone Duh che schifo Negativo incapperai inevitabilmente nelle loro furie Ok quindi niente da fare E ci tengo alle mie mani Ovviamente Ma per chi mi hai preso? Che ne so Hai messo le mani nella spazzatura una volta Ok non ci può fare altro Se ci buttassimo dentro qualcosa tipo non lo so Tipo il peperoncino E perché dovrei? Che ne so magari li fai scappare Vabbè in ogni caso Allora Qua c'è Nooo La mano di essi è un ritore ragazzi Nel covone di Paglia Perché giustamente lui quando è in cima Tipo Alle cose più alte del mondo Si getta nel covone E si salva tranquillamente Invece Mi sa che questa volta non gli è andato a bene Direi di guardare Esattamente come dovrebbero andare realmente le cose Effettivamente Che se ti butti tipo da 60 metri Ti sfracelli uguale Comunque Ah In questo videogame I modi di dire vengono presi un po' troppo alla lettera I modi di Ah nel senso lago nel pagliaio Aspetta Questo Ah di solito le bambole voodoo ragazzi si pizzicano con gli spilli Grande Quindi se li associo Non stavo più nella pelle Sì insomma Hai capito Sì abbiamo capito Oh mio dio C'è qualcosa che mi sfugge Non funziona Ok Quindi così non funziona Va bene Possiamo interagire ancora Ho già dato qualche ora fa Per oggi basta voli dell'angelo Ah sicuramente Adesso non ti diverti più a zompare da un tetto all'altro eh Mi sa di no Vabbè fatto sta Allora qua c'è la morte nera Se non mi sbaglio si chiamava ragazzi di Star Wars E possiamo interagire Oh mio dio Marionettista senza testa Miglior costume dalla Windy sempre Sicuro Ammesso che effettivamente sia un travestimento Infatti Possiamo parlarci No Parla con me Ah ok Tu saresti la marionetta Che sei tipo Pinocchio Una roba del genere Immagino che dovrei chiedere a lei per il mio premio Beh direi di sì C'è la tua di andare dalla zingara Cos'è tutta questa perplessità? Non hai mai visto una marionetta? Certo Ma non una manovrata da fili invisibili E da un marionettista senza testa Sì infatti E in grado di parlare E soprattutto C'è forse qualche problema se non sono mossa da fili? Beh no Ed è forse illegale per una marionetta avere una bella voce come la mia? No Infatti Non ci siamo capiti Voi donne siete davvero ingestiti Va bene Diamo il buono ragazzi Vediamo cosa ci dice Ho vinto un buono alla giostra Tac Prendilo pure Scegli un premio a piacere Grande Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Oddio Allora Set Lego del Millennium Falcon Ultimate Collectors Che c'è nella vita reale Ragazzi di sicuro Se esiste Costerebbe un sacco di soldi Fumetto Detective Comics Numero 27 Cartuccia del videogioco Eti per Atari L'Occandina del film Metropolis Amiibo senza gambe Della principessa Peach E che non so quale di queste cose potrebbe effettivamente servirci ragazzi Non ho la minima idea Non so Probabilmente potremo avere alla fine soltanto uno di questi oggetti E ci porteranno a sceglierlo comunque Perché Cioè Qualsiasi di queste cose magari potrebbe servirci a qualcosa Per cui Io la butto lì E scelgo cartuccia del videogioco Vorrei una cartuccia del videogioco Eti per Atari Ho finito l'ultimo disponibile giusto ieri Vedete ragazzi Poco male Tanto è il gioco più brutto della storia Però sei fortunato Posso darti questo Uh Grazie Ah vabbè quindi è questo quello che avremmo ottenuto Vedete ragazzi comunque in ogni caso Magari pure se avessimo scelto qualsiasi altro oggetto Probabilmente alla fine ci avrebbe dato comunque questo Interagiamo Diamo un'occhiata Com'è possibile che tutta questa roba stesse dentro un pacchetto tanto piccolo Cos'è sta roba? Starter kit del metallaro Yeah metallo What? Videomusica setta A quanto pare è una videomusica setta Qualsiasi cosa voglia dire Adoro il mistero Certo certo Quante possibilità c'erano che riuscissi a scovarlo È come cercare un ago in un pagliaio Bla 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 La stessa Sempre la stessa roba Vabbè allora qua evidentemente ragazzi Non possiamo fare altro Allora qualcuno di voi ragazzi Nell'ultimo video mi aveva detto Che probabilmente la cravatta E il papillon Sono da mettere nelle tombe di staglio e olio Infatti vedete Infatti qualcuno di voi mi ha detto Ci sono delle forme che ricordano il papillon e la cravatta Proviamo così Grandi ragazzi Grazie a chiunque mi ha consigliato questa cosa Oh mio dio Ragazzi ci ha aperto un passaggio segreto Andiamo Ma perché queste cose Ah possiamo usare i fiammiferi per accendere la fiaccola Ditemi di sì Ditemi di sì per favore E vai Sì Sistema di accensione automatico Attivato Cos'è questo posto E' tutto assurdo Testa in sala moglie Di chi sono ste teste Direi dare un'occhiata Che brutti ceffi Parla per te No no ho parlato Meno male Un attimo credevo di essere impazzito No è che l'hai sentita davvero Allora questo è un chiaro riferimento ragazzi al gioco portal In cui si possono usare i portali ovviamente Non possiamo Come pretendi che possa parlare a delle teste in sala moglie Ma se ci hanno appena parlato No ti hanno appena parlato Tutto questo puntare e cliccare mi stressa Devo assolutamente prendermi una vacanza Sicuramente Sicuramente Va bene Questo cosa Non sapevo come chiamarlo What Ho la vaga impressione che qualcuno qui avesse perso l'ispirazione Sì ma cos'è Non sapevo come chiamarlo Dico bene Non sapevo come chiamarlo Dico bene Non sapevi come chiamare cosa Te hai il tuo nome No Io non ho un nome Forse è proprio perché i tuoi genitori non sapevano come chiamarti Già Forse Quindi ho ragione io È il tuo nome Io ho già detto che non mi chiamo così Ok sì Ti dovresti rimettere in forma Dovresti proprio rimetterti in forma Perché dici così? Forse perché non riesci neppure a uscire dal tuo loculo Ma mi sono appena messo a dieta Non tocco una pizza da settimane È solo perché l'ultima volta ha divorato anche il fattorino What? Che hai fatto al braccio? Te lo sei mangiato tu? Che ti è successo al braccio? Avevo troppa fame No che schifo Deve aver fatto un male cane Però era buono Anche cannibale Sei cannibale vero? Mi pare di capire che sei un cannibale Non faccio molta differenza quando c'è di mezzo il cibo Che schifo Non intendi mica provare a mangiare anche me vero? Se fossero tutti come te Ovviamente Che cosa ci mangia su di te schini? In effetti hai ragione Vado a fare quattro passi Vado a fare quattro passi in giro Magari raggiungemi più tardi ok? Ok Allora qua ragazzi c'è Il libro della magia nera Il simbolo è lo stesso che c'è lì nella discarica E qua ci sono dei teschi Allora qua c'è una targa antica Aspettate 1861 Abbastanza autoesplicativo direi Aspetta E l'anno del libro che cosa? Possiamo prenderla? Aha Un generico 1861 Ok ma che missica me ne faccio? In ogni caso possiamo interagire Magia nera ad uso e consumo quotidiano Anche con questo Possiamo prenderla Ci sarà il motivo se è rimasto lì per così tanti anni Senza che nessuno l'abbia preso Dai skinny non aver paura Oh Vediamo Pratiche voodoo È quello che ci interessa Capitolo 3 Pratiche voodoo Come vendicarsi dei bulli della scuola Restando a distanza di sicurezza Recuperate dei campioni di capelli o unghie del bullo in questione E fissateli a un omino di pezza Posizionate quindi la bambola voodoo al centro di un pentacolo Chiudete gli occhi e incanalate il vostro odio sul bullo Immaginarlo con la testa immersa nella tazza aumenta le probabilità di riuscita Se il rituale avrà successo la bambola assumerà i connotati della vittima designata Procuratevi dunque un ago o degli spilli per colpire la bambola voodoo Gotetevi la vostra vendetta Grande Non danneggiate la bambola rimuovendo arti o testa Tenere fuori dalla portata dei bambini Ovviamente Vabbè questo ci interessa ragazzi Adesso sappiamo come fare la pratica voodoo Va bene terminiamo la lettura Il mostro marino Non si può certo dire che si vivessero tempi tranquilli nell'oceano profondo Ma anche adesso Posso suggerire un bravo estetista se mi permesso Va bene allora possiamo interagire con lo zombie Che eleganza E' fantastico Buonasera Ciao bello sicuino Bello sicuino Che hai fatto alla testa? Cosa ti è successo alla testa? Tesoro mio sono uno zombie mi sto decomponendo Si avevo letto il nome dell'hotspot ma faticavo a crederlo Oh pasticuino così mi fai davvero arrossire Ma del resto è normale confondersi quando si ha la fortuna di decomporre in una maniera così sublime Potrei essere quasi invidosa Ti piacciono i cervelli? Quindi ti piacciono i cervelli giusto? Certo che si ossicuino Io adoro i cervelli Ma solo quelli maschili Se capisci cosa intendo Si certo Fin troppo bene Io non so se ci sarà in collegamento il cervello che era all'interno del ripostiglio della casa ragazzi Gran bell'abito Gran bell'abito L'ho indossato per il giorno del mio matrimonio Immagino sia un ricordo a cui sei molto legato Decisamente Visto è considerato che anche il giorno in cui mi sono suicidato Bene Perdona Non immaginavo Cianuro Per la cronaca Lei era incredibilmente bella Ma non era davvero il mio genere E presumo non per una questione di bionde o more E poi non sopportavo che avesse la pelle più liscia della mia Proprio non riuscivo a farmene una ragione Un genio che ci fai rinchiuso qui dentro? Che ci fai rinchiuso qui dentro? Un tempo questa era la cripta della mia famiglia Sono stato sepolto qui Parecchio tempo fa si direbbe Quanti anni hai esattamente? Non essere indelicato Tesoruccio Non è elegante chiedere l'età ad uno zombie? Certo Chiedo umilmente scusa Emani proprio un buon profumo Emani proprio un buon profumo Tesoruccio Vacci piano con le avance Non essere così spudorato Uso una linea di bagnoschiuma e creme corpo Sono davvero ottimi Me ne daresti un po'? Comunque devo dire che per essere un piccolo sicuino Hai un buon odore anche tu Pensavo ci avesse dato un po' di bagnoschiuma ragazzi Vi ricordate che il tipo grasso e pelato nel bagno della casa Ha finito il sapone Vabbè ora devo proprio andare Torna a farmi visita ogni tanto Stellina Certo certo Va bene ragazzi adesso sappiamo come fare la pratica voodoo E questa cosa è importantissima oserei dire Per cui io uscirei Tornerei Ok ci ricordiamo che anche lo scienziato ragazzi Era arrivato il pacco Quindi magari potremmo utilizzare la macchina del tempo Se dovesse riuscirla ad aggiustare Tornerei un attimo alla casa A vedere se possiamo prendere il cervello Che era all'interno del ripostiglio Perché se non sbaglio ce n'era uno all'interno del ripostiglio ragazzi Eccolo qua vedete Possiamo prenderlo Ho finalmente trovato cosa regalarti per il prossimo compleanno Mizzica pensavo di sì Ti invito a farlo Visto che il tipo ha detto adoro i cervelli Ho pensato che potessimo prenderlo Vabbè non ci resta che tornare alla discarica ragazzi Ad assistere al rito voodoo Sono troppo infanziente di vedere cosa diavolo succede Allora quindi non ci resta che mettere la bambola all'interno del pentacolo Ecco fatto Ok pensieri negativi Pensa negativo Oh mio dio Ah quindi assunto la forma del tizio Niente di più semplice Tutto merito della facilità con cui riverso il mio odio gratuito Certo certo Tutto il tuo cinismo sarei dire Sì ma adesso posso Pungerla con lo spillo Vediamo ragazzi Speriamo solo che questa sia la volta buona Eccellente No dai Come si chiamava quel tipo Quello col ciuffo biondo Ok Ce l'abbiamo fatta ragazzi La camera di sopra è vuota Per cui adesso possiamo ovviamente dire al nostro amico qua Tranquillo Aspetta E se entrassimo prima noi nella camera Ok Qua c'è ciacchi ragazzi Preservativi usati da tutte le parti Mio dio amante nascosto What the hell Che schifo Ma come indossa Ma che veramente Certe volte la cosa migliore da fare è non porsi domande Certo ma possiamo prenderla Sarebbe anche in tinta con il colore della felpa Eh già Ovviamente sto scherzando Scordatelo Ok niente da fare Interagire Sono disposta ad indossare giusto le orecchie di topolino Come da obblighi contrattuali Ok niente da fare Dico bene sviluppatori Non possiamo farci niente quindi Tua madre da piccolo ti ha fatto mancare il suo affetto No skinny No Dio santissimo Con ciacchi invece A grandezza naturale fa persino più paura Già Temo più il contrario C'è che ti prenda lui Mi piace essere abbracciato Parliamoci Mi spiace Charles ma non potrei aggiungermi alla tua collezione I vantaggi dell'essere già morti Ok niente da fare Lenzuolo rosso Ora si spiegano le corna da toro Già Che me ne faccio Pronti per la prossima corrida Ragazzi noi prendiamo oggetti totalmente a caso Non ne ho la minimedia Ma che schifo E lo so C'è scritto Ma che schifo Che ne so io Vabbè niente Ovviamente indossare ragazzi c'è in che senso Amante nascosto Esiste ancora qualcuno che si ostina a giocare a nascondino Certa gente non vuole proprio crescere Di uscire da lì eh Che ci fai nascosto lì sotto Come dire Potrei essermi cacciato in guai seri E di preciso chi ti starebbe cercando Questa stanza è un continuo via vai di coppiette A dire il vero Un po' tutti Diciamo che negli ultimi tempi Ho combinato qualche casino di troppo Davvero Hai tutta la mia stima Certo Allora Ah qui ci sono degli anelli Sembrerebbero due fedi nuziali Li prenderà di sicuro Infatti A parte che all'interno di quest'anello ragazzi C'è l'iscrizione dell'anello del signore degli anelli All'interno di una delle due fedi sono incisi degli strani segni Sì appunto stavo dicendo Non so perché li avremmo presi effettivamente L'ennesima dimostrazione del grande ascendente dei coniglietti Nei confronti del gentil sesso Sì certo Che ci possiamo fare? Che ne so io Oh mio dio Ma perché? Non oso immaginare cosa racconterebbe Se solo avesse il dono della parola Nemmeno io oso immaginare Effettivamente Va bene ragazzi Direi che abbiamo interagito con tutto quello con cui potevamo interagire Per cui Direi che possiamo uscire e andare ad avvisare Il tizio Caro amico La camera è libera La camera da letto è libera La camera da letto al piano di sopra è libera Come promesso Ah Guarda la faccia della tipa Chiamo subito la banda Stati fermo immobile La banda? Che banda? Oh mio dio Prendi con i ragazzi E andate alla discarica Non interessami di cosa che facete Non mi farmi perdere tempo Tutto risolvuto Ora vai Stanza zompa zompa pronta Sì Oh mio dio Wow Non riuscivano più a trattenersi Eh già Bene A quanto pare La banda era di scarica Andiamo a vedere Sta gente fa paurissima ragazzi L'ho smesso Qualcuno qui ha seriamente bisogno di un po' di Xanax Va tutto bene? Non mi sembra che stia molto bene Non sapremo mai cosa accade in quella testolina da Aden Questo qua? Il basso Deve esserci una discreta carenza di giocatori in questa città Direi di sì se fanno giocare questi È tutto pronto Possiamo procedere Dove vuoi che lo portiamo? Via venerdì numero 13 Hai idea di quanto sia lontano da qui Noi siamo diretti alla festa Il massimo che possiamo fare è portartelo lì Vedrò di accontentarmi Ma che me ne faccio? Sentito Muoviamoci No volevo interagire con quello grosso Avete visto il tipo appeso? Vabbè ha fatto sta ragazzi che ci hanno spostato l'armadio Però non so fino a che punto questo potrà esserci utile Eccolo qua Ok quindi ce l'hanno portato fin qui ragazzi Che ci possiamo fare? La cosa che ci ricordiamo è che Lo scienziato ragazzi aveva ricevuto il suo pacco Sembra che quel pezzo sia arrivato finalmente Infatti probabilmente adesso possiamo interagire con lui Funziona tutto adesso? Funziona tutto adesso? Il cordiere si è fatto desiderare non poco Ma il carburatore era perfetto Mi offro assolutamente come cavia per testarla allora Davvero? Hai idea dei possibili effetti collaterali? Sono già morta Paradossi temporali Impossibilità di ritorno Rischio di incesto con la propria madre Possibili annichilazioni Mutazioni cromosomiche Potrei continuare? Diciamo che non ho nulla da perdere Per me va bene allora C'è solo un piccolo problema Quale? Ho finito il plutonio Ma noi ce l'abbiamo E ci vorranno un paio di giorni Prima che il mio ricettatore di fiducia Riesca a procurarsene dell'altro Ma noi ce l'abbiamo Io ce l'ho Aspetta Ripasso più tardi Ci si becca dopo Ce l'ho il plutonio Guarda Per caso questa può interessarti? Dove l'hai provata? Così La riscarica Ok Versene esattamente 3 millilitri per ogni dozzina di anni a ritroso Aggiungi anche altri 2 millilitri per avviare la macchina E un millilitro ogni mezz'ora di tempo reale di utilizzo Sì il più preciso possibile Ok nessun problema La macchina si avvierà non appena avrai inserito la data di destinazione nell'apposito quadrante Evita i viaggi nel futuro Il processo sfrutta in parte il campo geomagnetico terrestre ed eventuali alterazioni potrebbero impedirti di tornare indietro Ricordati che non puoi saltare da un'epoca all'altra Ogni volta sei obbligato a tornare al presente Ne hai ancora per molto Le porte sono automatiche Quindi resta nei dintorni Qualche animale potrebbe entrarci per sbaglio e tornare al posto tuo E ricordati di stare attento a non interferire mai con il continuum spazio temporale Ok Minchia Quanto Plutonio ha detto che dovevo versare di preciso? Non ho la minima idea Ma abbonderò Cosa vuoi che accada? Oddio Ok ci ha ridato comunque la La roba Yeah Aspetta possiamo prima entrare ok Ah visto che qua dice 1861 se non sbaglio E ci ha detto che non possiamo viaggiare nel futuro metterei 1861 Andiamo Andiamo Anche se destinazione c'era scritto 1863 io ho messo 1861 Oh vabbè Oh mio dio Aspetta un attimo perché qua c'è l'uovo di Togepi ragazzi E' il Jumanji Un gioco che sa trasportarti Chi questo mondo vuol lasciar Lo prendiamo? Di certo la vita all'interno dell'armadio non è facile ma in ogni caso la preferisco Possiamo interagire almeno Niente da fare Stai ancora sperando in un 5 o un 8 eh Robin? Oh questo qua Manet Ah un pittore famoso ragazzi Possiamo fare qualche altra cosa qui? Sembrerebbe di no ragazzi Vabbè Allora Allora Tra l'altro di qua non possiamo andare Qua la caverna è chiusa Cioè la grotta è chiusa Non ce n'è più Per cui Direi di interagire con lui Purtroppo non ero un granché in storia dell'arte Chissà perché Sta dipingendo due navi in mare aperto Forse durante uno scontro Ah ah Possiamo parlarci? Buondio Chi va là di grazia? Il mio nome è Manny Manny Calavera Sì insomma Sono lo scuro mietitore Non era mia intenzione spaventarla signor Manet La sua fama la precede sa? Beh Lei mi lusinga Ora basta con i convenevoli Non sono qui per questo Immagino che sia giunta la mia ora Corretto Ma non del tutto esatto Potrei darle una seconda possibilità Qualsiasi cosa Ma mi risparmi la vita La prego Mi aggiunga nel suo quadro allora In mare Possibilmente in grande E ben visibile Ma è una richiesta insensata Sarebbe tutto fuori proporzione Senza contare che rovinerebbe totalmente il pathos della scena Devo forse prenderlo per un no? Mi perdoni triste mietitore Ok Sarà inventato Perfetto Quindi ci dipingeranno il quadro Con questa che possiamo fare Mi sembra di vedere qualcosa che luccica nella rete Davvero? Prendila Oh mio dio Eeeh Ma perché ti ci devo buttare così a pesce? Nel vero senso della parola Mi sta bene La prossima volta sarà il caso che mi faccia gli affari miei Scusa Ha detto che c'è qualcosa Va bene prenderlo fresco Ma così è un tantino esagerato Niente Interagire Non sono mai stato un grande amante della pesca Sbaglio o stai diventando ridicolo? Mmm Ha detto che c'era qualcosa che luccicava Non abbiamo niente da poter usare per prenderlo Probabilmente no ragazzi E abbiamo un sacco di oggetti che continuano a capire come usare effettivamente Comunque qua non possiamo fare altro Direi di tornare indietro Magari è cambiato qualcosa Non so a cosa può essere servito tutto questo effettivamente Ma qua niente Qua è tutto uguale Vabbè ragazzi Allora direi che oggi abbiamo fatto tante cose interessanti Siamo riusciti a spostare l'armadio Che era quello che ci interessava più che altro E dovremmo vedere come portarlo fino a casa di Ronald Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Go putash a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete questi antiaggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao